Dopo giorni di alta tensione tra Stati Uniti e Russia, la Casa Bianca sbatte la porta. Barack Obama annulla l'incontro bilaterale col presidente russo Vladimir Putin a Mosca, programmato per i primi di settembre. L'annuncio arriva poco prima dell'incontro bilaterale, previsto per venerdì a Washington, tra il segretario di Stato americano Kerry e il capo del Pentagono Hegel, con i loro corrispettivi russi, il ministro degli esteri Lavrov e quello della difesa Shoigu. Il presidente americano reagisce così alla concessione dell'asilo politico temporaneo da parte delle autorità moscovite all'ex tecnico dell'agenzia di sicurezza nazionale statunitense Snowden. Ma c'è dell'altro. Negli ultimi 12 mesi, spiega il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, non c'è stato alcun progresso su questioni come la difesa missilistica, il controllo degli armamenti, le relazioni commerciali, la sicurezza globale e i diritti civili. Il vertice è quindi rinviato a quando saranno raggiunti risultati maggiori nel quadro di un'agenda comune. Immediata la risposta del Cremlino. Il paese è deluso dalla decisione del presidente Obama. Questa chiusura testimonia che gli Stati Uniti non sono pronti a costruire relazioni con la Russia su basi paritarie. Siamo pronti a lavorare ulteriormente con i partner americani su tutte le questioni centrali dell'agenda. L'invito a Obama resta valido. E se Mosca smorza i toni, l'intervento di Obama al Tonight Show non è proprio accomodante. Ci sono momenti in cui i russi tornano a pensare come se ci fosse ancora la guerra fredda, argomenta il presidente nel programma cult di Jay Lino. Io dico continuamente a loro e al presidente Putin che tutto questo è passato. Quanto a Snowden, Obama assicura che non c'è alcun programma di spionaggio nazionale e che non è chiaro cosa abbia fatto l'ex agente a parte quello che dice su Internet. Intanto però il capo della Casa Bianca deve fare i conti ancora una volta con l'allarme terrorismo. Nelle ultime ore, secondo fonti della BBC, sarebbe stato sventato un piano di Al-Qaeda per far saltare alcuni oledotti nello Yemen. Un attentato per ottenere il controllo di due porti nel sud dove si concentrano le esportazioni di petrolio. Il rischio attentati nel paese è elevato. Ancora una volta nel mirino ci sarebbero soprattutto cittadini americani.